Oh, siamo, siamo, dov'è che siamo? Chi è che c'è qua dietro? Chi è che c'è? Scompa... Siamo... fammi parlare... Siamo con dei deficienti. Siamo con dei deficienti, in piazza Duomo non riesco neanche a parlare, facciamo, vediamo un po' chi c'è dai qua. Attenzione, c'è il Victor con un bellissimo che non so se avete notato, fate vedere... Ma ce l'ho da mesi, è solo che prima... Il pirulino qui... Era invaso i capelli... Io non voglio essere ripreso, io non voglio essere ripreso... No, vieni qua con me... Attenzione... Mi sta obbligando... Mi sta obbligando... Questo è il mio amore, segreto... Oddio! No, dice amore e poi non ti fai dare i baci... Poi... siamo qua... Io posso essere ripreso perché tanto so quelli a specchio quindi non mi vedete... Perché sei sparito tu, vieni qua... Vieni qua... Che hai un bellissimo cappello peraltro, fallo vedere... Attenzione, ecco qua... Quello è il cappello dei sogni... Io sono i Blues Brothers... Poi qua ci sono... Fan, Mika Fan... La Dede... Dove siamo, dove siamo Michael? Allora, siamo... In Coulonia, no... In Duomo, a Milano... E... Non ho idea di cosa faremo... Però... Niente, adesso ci siamo visti... Possiamo andarcene... Sì, io direi che... È stato un piacere... È stato un piacere... Bellissimo, bellissimo... Comunque guardate che bello il culo del cavallo... Non si vede da anni... Non si vede da anni... Fanno i lavori dal 1908... Secondo me quando tolgono l'imparcatura il cavallo non c'è più... Guarda piccione in posizione di combattimento... Tutti che culo dallo seguito... Ah dai... In quadro... Per me stanno costruendo la statua di Silvio... Posizione di combattimento... Posizione d'attacco, cazzo... Io mi devo andare a tagliarmi i capelli... E io... Sembra che ho gli spinaci in testa... Saluta, saluta... Ooooooh...